Brutto risveglio per i cittadini della frazione Campomanfoli di Castel San Giorgio, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un muro di cinta. Terra e massi hanno colpito tre auto parcheggiate sulla strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto immediatamente giunti gli uomini della Polizia Municipale, guidati dal comandante Giuseppe Contaldi, che hanno recintato e messo in sicurezza l'area insieme ai tecnici del Comune. Secondo i primi accertamenti, lo smottamento è stato causato dall'acqua accumulata dalle piogge delle ultime settimane. È stata una grazia che ci ha fatto San Biagio. Nonostante il maltempo e questo crollo, questo crollo è avvenuto nottetempo. E quindi avvenendo nottetempo non ha prodotto danni a persone, ma solo danni a cose, fortunatamente. Cosa è successo, Sindaco? In una proprietà privata, un muro imbibito probabilmente di acqua per le lunghe piogge che si sono avute in questi giorni, ha ceduto e quindi è caduto sulle macchine che erano ferme in sosta sotto. Il nostro è un territorio fragile che deve essere curato perché è stato da troppo tempo, non dimenticato, maltrattato, il che è peggio, lasciato alla totale incuria. Corte Domini è un borgo antico, è un borgo però che risente degli anni. Quindi adesso faremo un controllo anche nelle case private lungo tutto il corso dove è avvenuto questo cedimento e speriamo di non verificare altre situazioni di pericolo.